Consegnati gli attestati ai commercianti, vincitori del bando per la riqualificazione delle attività di commercio al dettaglio nel Comune di Aprilia. Il progetto è stato creato per rivitalizzare il centro, privilegiando imprese di artigianato, biologico, chilometri zero, tipicità locali o comunque tali da attrarre il visitatore e il potenziale acquirente. Le aziende beneficiari del contributo a fondo perduto sono state diverse, una frutteria, una macelleria, una gelateria ma anche un pet store e attività innovative e di prossima realizzazione, oltre a quelle già avviate. Il sindaco Terra e l'assessore Marchiti hanno espresso piena soddisfazione per questo progetto sottolineando come gli imprenditori di oggi riservino particolare attenzione verso il cliente attratto da prodotti al dettaglio, qualità ed esperienza del commerciante. Si parla quindi di tradizione e prodotto locale, senza escludere però le potenzialità offerte dal commercio online. Quello di oggi non è un progetto spot, ha dichiarato l'assessore Marchiti, ma la conclusione di un percorso che parte dai fondi destinati nel 2015 per il bilancio partecipato. Il contributo erogato oggi non rappresenta la soluzione di tutti i problemi causati dalla crisi economica attuale, ne siamo consapevoli ma è pur sempre importante e penso soprattutto alla valorizzazione del nostro centro urbano.